La sinistra italiana è stata l'argine al terrorismo rosso e nero e questa cosa Donzelli non la sa perché è dentro la sua deriva ideologica che lo rende incapace di capire la gravità delle immagini di H. Larenza. Sono gravi intanto perché c'è l'apologia di fascismo, c'è l'esibizione del saluto romano, c'è la rivendicazione di un regime che è stato cancellato dalla storia, dalla resistenza dei partigiani e che è stata la vergogna di una patria che si era venduta all'invasore, nel caso specifico Adolf Hitler. Aggiungo una cosa, vedo che ci sono molti che minimizzano, noi abbiamo chiesto una cosa molto semplice che la Meloni prenda una posizione, non credo di chiedere tanto, chiediamo che chi dirige questo paese che è la sesta potenza industriale del mondo, membro del G7, quest'anno tra l'altro presidente di turno del G7, nonché un grande paese europeo, dica parole chiave, chiare, di distanza rispetto a questi gesti. Ho visto addirittura che Ignazio Larussa, che ha vinto il premio mondiale di arrampicata sugli specchi con un atteggiamento pilatesco, oggi arriva a sostenere che bisogna aspettare le sentenze della Cassazione prima di potersi pronunciare sul divieto o meno del saluto romano. Tendiamoci, se a ogni giudizio politico e storico dovessimo aspettare le sentenze della magistratura non potremmo mai assumere nessuna posizione. Si potrebbe rovesciare la dichiarazione di Larussa dicendo che prima di identificare attraverso la Digos chi si dichiara antifascista forse bisognerebbe aspettare le sentenze della magistratura.